La Lombardia e Cremone in particolare puntano con fiducia sull'export. Dovrebbe essere questo l'asso nella manica in grado di rendere sul fronte dell'economia il 2018 migliore del 2017. A rivelarlo è una speciale indagine appena condotta a livello regionale dall'azienda Promos. Di 89 miliardi è il valore in euro dell'export Lombardo nei primi nove mesi dell'anno scorso, 330 milioni al giorno. Ma se in Lombardia l'export è aumentato del 7,3% rispetto allo stesso periodo del 2016, più che doppio è l'incremento registrato a Cremona, un incremento a due cifre, più 16,2%. I mercati di maggior interesse sono quelli europei, ma anche gli Stati Uniti, Sud America, l'Africa centro-merionale, la Cina, il Giappone e l'Asia orientale. Cremone esporta per lo più prodotti in metallo. Anche l'import a noi è cresciuto tra il 2016 e il 2017, più 34,3%, per lo più in questo caso, di prodotti manifatturieri provenienti dalle piazze e dell'Unione Europea, anche se la crescita percentuale maggiore riguarda l'Africa e l'Asia centrale, sempre più all'arimbaggio dei nostri consumi.